Buona Pasqua. La parola Pasqua è antica, è una parola ebraica che significa passaggio. Per gli ebrei significava il passaggio dalla schiavitù alla libertà che si era compiuto con la fuga dall'Egitto. Per i cristiani è il passaggio di Gesù dalla morte alla vita. E per i battezzati è il passaggio nella loro prima Pasqua da una vita lontano da Dio e anche segnata dal peccato a una vita in comunione con Dio e in fraternità con gli altri. Dirsi Buona Pasqua allora è veramente significativo. Significa augurarci l'un l'altro di crescere nella libertà dalle schiavitù che non sono tanto le schiavitù che gli altri ci impongono quanto le schiavitù che i nostri limiti, i nostri difetti, le nostre chiusure e i nostri egoismi ci impongono. Essere liberati è passare da una vita morta ad una vita viva. Quanta gente sembra viva e in realtà sopravvive. Buona Pasqua è dare più senso, più valore, più importanza a questo grande dono della vita. Ed infine Buona Pasqua è entrare in una più grande comunione con Dio e con gli altri per essere davvero uomini nuovi, persone rinnovate nella gioia. Buona Pasqua allora di cuore a tutti voi.